Devo molto alla scuola, devo molto a quegli anni di studio, devo molto ai miei maestri, devo molto anche alla capacità di quel codice di lettura dei rapporti mediati dalle bibliografie, dai testi, dalle citazioni, dalle battute, che sono una forma gentile rispetto alla brutalità dei rapporti umani che si fondano su che cosa vuoi, chi sei, da dove vieni, sei ricco o povero, sei del partito o sei fuori partito. E quindi io penso che di questo noi dobbiamo essere molto grati.